Nadia, quello che voglio è quel momento, è questo quello che voglio in una relazione, che spiega perché sono singolo in questo momento, è così difficile, è quella cosa per cui quando stai con qualcuno e lo ami, e lui lo sa, e lui ti ama, e tu lo sai, è come essere una festa, ed entrambi state parlando con altre persone, tu ridi, sei splendida, e poi guardi dall'altra parte della stanza e incroci il suo sguardo, ma non perché siete possessivi o per qualche istinto sessuale, ma perché lui è la persona giusta per te in questa vita. Ed è divertente e triste insieme perché questa vita finirà, e c'è un mondo segreto che vive proprio qui. In pubblico non ce ne rendiamo conto, nessun altro lo sa. È come quando ci dicono che esistono altre dimensioni tutte intorno a noi, ma non siamo in grado di percepirle. È questo quello che voglio in un rapporto di coppia, o dalla vita, suppongo. L'amore. Sembro strafatta, ma non sono strafatta. Grazie per la cena. Ciao!